Ha fatto bene l'editore italiano Marco C. Marcos negli ultimi anni a tradurre e pubblicare i romanzi di Edward von Keiserling, uno scrittore poco noto, forse un po' dimenticato, ma a torto, chiamiamolo minore, ma cosa c'entra, insomma minore maggiore, un ottimo scrittore di lingua tedesca di cui ricorre adesso il centenario della morte, proprio nell'autunno del 1918, noi abbiamo già qui nel nostro sito un video, una recensione di un altro bel romanzo di von Keiserling che è Onde, qui parlo di un altro, von Keiserling fu uno scrittore di lingua tedesca, di nobiltà baltica della Lettonia, appartenendo all'antica nobiltà teutonico lettone e quindi il suo mondo, di questi suoi romanzi è tutto così, legato a questa piccola nobiltà di provincia in Lettonia, una nobiltà ai bordi della decadenza e della fine perché von Keiser morì nel 1918 quando finì l'impero austro-ungarico, la civiltà mitere europea così com'era, asburgica, è quasi un segno, lui morì proprio nell'anno della fine dell'impero austro-ungarico della civiltà asburgica, morì cieco per una malattia che negli ultimi anni lo aveva colpito e quindi non vedeva più prima ancora di chiudere gli occhi il simbolo della fine di una civiltà e questo mondo un po' dolente, raffinatissimo è quello dei suoi romanzi. Adesso io vi presento un altro suo libro, il castello di Dumala, qui siamo nell'inverno, pieno di neve, di ghiaccio, di fredde notti lunari, tracce di lupi ai bordi delle foreste, un maniero isolato nella campagna, un nobile, un barone un po' vecchio, invalido, che ha una giovane moglie conturbante, bella, sedutrice, un po' misteriosa, forse anche spregiudicata e attorno a lei si muovono le attenzioni di pochissimi uomini che stanno lì, il compassato segretario del barone, il pastore protestante del luogo sposato, ognuno deve poi, come dire, moderare queste sue pulsioni, questi desideri segreti, poi però arriva in visita un barone un po' più spregiudicato e ci sono queste corse notturne di una slitta trainata da cavalli di notte, che sarà mai? Sarà un convegno amoroso, clandestino, che si ripete a notte per notte, sarà poi magari anche quello di una fuga amorosa, lascio la trama al piacere del lettore, si può dire che Von Kaiserlich con una raffinatissima scrittura rappresenta questo mondo misterioso di passioni contenute oppure sfogate appena e c'è l'enigma anche di un finale che non conosciamo bene, perché chissà, chissà Carola, questa donna che toglieva la pace dalle ossa di questi uomini, che cosa può dire quando poi fugge, ritorna e si dice a un certo punto nel romanzo di Von Kaiserlich cosa sappiamo mai, cosa sappiamo di ciò che accade negli altri, come possiamo mai giudicare? Ed è vero, insomma il lettore può cercare di giudicare da solo e poi questa Carola, questa donna conturbante alla fine, vabbè, tanti uomini erano toccati da lei, però si ritrova e dice a un certo punto la solitudine sembra essere il mio destino, spesso capita alle donne belle e molto amate. Il castello di Dumola, Eduard von Kaiserlich, edito da Marcos e Marcos. Grazie a tutti.